Ci mancava solo questa. Questo sembra pensare il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che già in difficoltà per l'escalation della Lega, che dopo aver sottratto l'Umbria, ora incalza anche in Regione, deve fare i conti con il governo giallorosso, che certo non l'aiuta. L'annuncio di voler introdurre una tassa sulla plastica nella legge di bilancio ha già fatto agitare non poco gli industriali locali. Il provvedimento, che prevederebbe un'imposta di un euro al chilo per bottiglie di plastica, buste, vaschette, ma anche tappi e tetrapack, rischia di diventare un bel problema per l'Emilia Romagna, dove tra Piacente e Rimini si stima ci sia il 40% della produzione europea per quanto riguarda gli imballaggi dell'ortofrutta, mentre secondo i dati Union Camera l'intero settore conta qualcosa come 16.000 lavoratori per quasi mille imprese. Si va dalla bolognese Ilva alla piacentina CDS, passando per l'Infia di Bertinoro, per non parlare poi della Bion, già in grossa difficoltà per un'indagine sul falso in bilancio. Insomma una tassa che andrebbe a colpire non poco il fatturato. Questo è il motivo per cui Bonaccini ha immediatamente preso le distanze da Palazzo Chigi. In Emilia Romagna il futuro piano regionale Plastic Free lo stiamo condividendo con le imprese del settore per una svolta ecologica assolutamente necessaria, ma che non deve colpire imprese e occupazione, ha spiegato il Governatore, chiudendo poi con una nota di speranza. Anche i parlamentari regionali del centro-sinistra mi hanno assicurato di voler modificare e migliorare tali misure. Ovviamente non si fa sfuggire la palla la sua avversaria Lucia Borgonzoni. La Plastic Tax è una manovra a Mazza Emilia Romagna, attacca. Ancora una volta il PD si dimostra nemico di imprese, lavoratori e del mondo produttivo.